Lady Gaga riprende il tour, a Milano arriva il 18 gennaio 2018 Live Nation comunica che i concerti europei del Johanne World Tour di Lady Gaga saranno riprogrammati nei primi mesi del 2018 Il tour ripartirà a novembre e dicembre in Nord America per poi trasferirsi in Europa Domenica 14 gennaio 2018 la tour neri comincerà infatti da Barcellona, per poi fare tappa in tutte le città precedentemente annunciate e concludersi a Berlino il 23 febbraio Di seguito, il calendario con tutte le date riprogrammate del tour Non ci sono tante voci in grado di stupire come quella di Lady Gaga, ha dichiarato il New York Times, aggiungendo che il tour vede la pop star nella sua forma migliore Barietti elogia invece la resa vocale e l'energia delle performance, mentre la Times afferma che i fan avranno modo di vedere la loro beniamina ritornare sul palco in un tour già molto acclamato dalla critica e dal pubblico per la sua messa in scena spettacolare Per quanto riguarda il concerto di Milano al Mediolanum Forum i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per la nuova data Le eventuali richieste di rimborso possono essere effettuate in tutti i punti vendita dove è avvenuto l'acquisto Per richiedere eventuali rimborsi sugli acquisti online e contattare il servizio clienti all'indirizzo http www.ticketone.it barra help Tutte le richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre il 10 novembre 2017 Il tour di Lady Gaga, Johnny World Tour, è prodotto da Live Nation Global Touring Johnny World Tour League Europea 2018 Nuova data, città, venue e data originaria 14 gennaio Barcelona, es Palau Sant Jordi 22 settembre, 2017 16 gennaio Barcelona, es Palau Sant Jordi 21 settembre, 2017 18 gennaio Milan, it Mediolanum Forum 26 settembre, 2017 20 gennaio Amsterdam, Nezigo Dome 03 october, 2017 22 gennaio Antwerp, Besport Palace 01 october, 2017 24 gennaio Hamburg, The Barclay Card Arena 29 settembre, 2017 31 gennaio Birmingham, Uc Arena Birmingham 15 october, 2017 1 febbraio Birmingham, Uc Genting Arena 12 october, 2017 4 febbraio London, Uc O2 Arena 09 october, 2017 6 febbraio Manchester, Uc Manchester Arena 17 october, 2017 8 febbraio London, Uc O2 Arena 11 october, 2017 11 febbraio London, 2017 11 febbraio Zurich, CH Allen Stadium 24 settembre, 2017 13 febbraio Colm, De Lanx e Sarena 28 october, 2017 15 febbraio Stockholm, SW Ericsson Globe 23 october, 2017 17 febbraio London, 2017 17 febbraio Copenhagen, DK Royal Arena 21 october, 2017 20 febbraio Paris, FR Accorotels Arena 06 october, 2017 21 febbraio Paris, FR Accorotels Arena 07 october, 2017 23 febbraio Berlin,'de Mercedes-Benz Arena 26 october, 2017